Si è svolto a Cagliari Bio in Tour, la seconda tappa dopo Roma dei distretti biologici d'Italia. Un abbinamento tra bio e sport uguale salute. Un'azione collaborativa tra le istituzioni locali, i produttori bio, per lo sviluppo dei territori e delle persone. Oggi siamo qui per la seconda tappa del Bio in Tour, un progetto nazionale che prevede 10 tappe in 10 regioni d'Italia. La prima è stata il 21-22 giugno scorso a Roma, presenti l'Associazione Nazionale dei produttori di Sardegna Bio, che ha avuto un finanziamento dal Ministero del Masaf, ma in collaborazione con la Rete Nazionale dei distretti biologici d'Italia e in questo convegno anche Colconi regionale Sardegna, dove vogliamo portare il biologico, la cultura del biologico, ma soprattutto lanciare, far capire quanto è importante mangiare bene e quanto fa bene la salute. Oggi infatti Colconi lo scopo del progetto è stato quello di puntare a lavorare insieme bio più sport uguale salute e mirato appunto a corsi di educazione alimentare rivolto soprattutto alle scure primarie e non solo. Come tutti sanno il biologico legato allo sport fa sì che le prestazioni sportive aumentino e poi è consolidato il fatto che i prodotti biologici sono sostenibili, contengono più vitamine degli altri, quindi sali minerali, proteine migliori, quindi gli sportivi non possono fare a meno di utilizzare prodotti biologici.